Niente più di questo, niente più. È tutto finito e dopo il chirialesono di Apicella, al tuercatore non resta che compiere il gesto estremo e rimettersi al volere di Dio. Ma quando tutto sembra finito, la divina provvidenza compie il miracolo. No, non vuoi! Là fuori c'è un mondo da tuercare! Ti salvo io! Cosa diavolo mi ha detto di fare? Tu ti devi riprendere, capito? Tu sei l'unico e vero tuercatore che me lo devi dimostrare adesso, qui! Hai capito il tuo lettore? Ah 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 Milli ah milli ah ah milli ah milli La mia! Inferno.